Come vi chiamate? Mi chiamo Fabio Io mi chiamo Nina Età? 9 anni e mezzo Quasi 14 Qual è lo spazio che vi piaciuto di più al pilastro? Primo, dove ci sono state le corrette Io direi la nostra sera Cioè, non so, non c'è stato lì Qual è la cosa più bella che avete imparato? Ad allacciarmi i lacci La cosa più bella che ho imparato è stata Imparare a cavarmela da sola Farmi la tenda Farmi da mangiare Anche se c'è la pioggia Qual è l'uscita che vi è piaciuta di più? La prima uscita in treno Perché abbiamo inventato Il grande urlo E gli urli di munta A me invece è piaciuta l'ultima uscita Che abbiamo fatto che era il CRB Perché ci siamo incontrati con tutti i reparti Di tutta l'Emilia Romagna Mi sembra E abbiamo fatto un sacco di giochi Ho conosciuto anche persone di altri reparti Di altri luoghi Come non solo di Bologna E mi sono messo un sacco Qual è stato il tuo primo amico amicane di scout? Il mio primo amico è stato Lorenzo Io conoscevo già una persona Però la mia prima amica che non conoscevo è stata Lorenzo Che è il capo battute Come ti chiami Bologna Mi chiamo Greta e ho 10 anni inizio Mi chiamo Emanuele e ho 13 anni Che cosa ho imparato questo mese a gio scauto? Ho imparato che cosa è una muta e come rispettare l'auto I giochi principali degli scouti che sono Lorenzo E parlo scauto E abbiamo anche l'imparata montaglietta Qual è l'attività che ti è piaciuta di più? La festa rivicinata E dove abbiamo giocato Un po' di giochi Insieme a Un paio di bambini del filastro L'imparare i codici grossi Qual è il posto che ti è piaciuto di più? Il mio città Latano E il via Gabriele D'Arco E il centro sociale In via Dino Campana Tra le varie attività che hai fatto Qual è che vorresti rifare? Mi piacerebbe rifare la caccia di un saura con le bussole A me invece piacerebbe imparare un'ora Giacomo Martino Sofì Quanti anni hai? 12 10 14 Come ti sei trovata nell'ambiente? C e cabine Bene Mi sono anche divertita Mi sono divertita abbastanza Qual è l'attività più bella che hai fatto? L'attività che abbiamo svolto al centro sociale Devi imparare a fare le tempe Giocare a bucci Mi è piaciuto imparare a giocare con la scout Cos'hai imparato nell'anno scout? A collaborare con le altre persone Io ho imparato a risolvere maestro Io ho imparato a seguire e fare dei nodi Qui si chiama il gruppo scout del pilastro Vai!